Buon salve e bentornati su Noma Mammazzo. Come da vostra richiesta e con mia grandissima gioia, oggi voglio parlare con voi di questo pesantissimo tomo a fumetti, Ghostbusters della IDW, più precisamente in questa sua veste grafica che è il primo omnibus chiamato Total Containment. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, di attivare la campanella delle notifiche per essere avvisati su tutti i video che usciranno d'ora in poi, di condividere il video con tutte le persone che amano i Ghostbusters, gli anni 80 e le citazioni, e di commentare qui sotto con tutte le citazioni che magari io ho perso e che voi avete trovato, o se non ve ne eravate accorti e se io vi ho aiutato a scoprirle. Cominciamo. Allora, innanzitutto, Total Containment è un omnibus che esiste solo per il mercato anglofono, quindi è solamente in inglese, non è stato fatto in Italia. Francamente non so nemmeno se in Italia le storie che hanno pubblicato siano arrivati a questo punto, quindi vi dico, sono così tante le pagine, quindi c'è il rischio che io faccia dello spoiler alle persone che stanno leggendo la serie in italiano che sta uscendo in questi anni. Ghostbusters della IDW nasce nel 2014, quando ancora Harold Ramis non ci aveva lasciato. Ed è proprio per questo che ho comprato questo omnibus in inglese, perché in Italia non stava arrivando. Adesso sta arrivando pian piano pianino. Già che ne parliamo, già che mi è stato chiesto proprio di fare un video su questo tomo, vorrei farvi vedere anche la bellezza di come è stato impaginato. Innanzitutto, questo chiaramente è il contenitore dei fantasmi, che è più nella sua veste cartonistica, più nella sua veste The Real Ghostbusters, quando è molto più grande e molto più tondeggiante. Comunque questa, questa parte qui è in rilievo, questi dettagli sono tutti in rilievo, è tutto un basso rilievo. Qua sentite davvero il solco all'interno, non so se forse mettendovelo così si capisce. Questi bottoni sono tutti in basso rilievo e anche dietro, che vediamo delle manopoline, sono tutte in basso rilievo. È un'edizione fenomenale, anche qua i tubi si sente proprio, se voi passate col dito, qua sentite dei tasti. È spettacolare. All'interno trovate, questo è l'esterno del contenitore dei fantasmi, che si apre, noi entriamo e troviamo l'interno del contenitore dei fantasmi. Così come ci è stato rappresentato nella serie animata The Real Ghostbusters, quindi come una zona un po' evanescente dove tutti i fantasmi, questi sono i fantasmi per esempio che hanno catturato in questo omnibus, fluttuano all'interno di questo contenitore. Ecco, se guardate bene, questa è l'entrata, questa luce qua è l'entrata del contenitore. Anche sul retro trovate la stessa cosa, in quarta di copertina, e trovate la prefazione, niente po' di meno, che da Ernie Hudson, ovvero dall'attore che ha interpretato Winston Zedmore. È davvero una prefazione coi fiocchi, è in inglese. Se per caso siete interessati, fatemelo sapere che a tempo debito la traduco e ve la metto qua in descrizione, però datemi un po' di tempo perché sto facendo un sacco di video per l'anniversario del canale. Siete un po' tristi che Ghostbusters 3, Ghostbusters Afterlife o Ghostbusters Legacy, titolo europeo, non viene trasmesso nelle sale nel 2020 e è stato rimandato al 2021? Non vi preoccupate perché, come dico sempre io, Ghostbusters 3 esiste, Ghostbusters 3 è già stato fatto e Ghostbusters 3 è Ghostbusters The Video Game. Questo gioiellino è stato creato nel 2009 con le voci originali degli attori, quindi è stato interpretato dagli attori, è in continuity con i primi due film ed è ambientato all'incirca, mi sembra se non sbaglio proprio l'anno specifico, nel 92, o comunque sì, nel 92, un paio d'anni dopo il secondo film che è nell'89, quindi 84, 89, 92 e che tra l'altro nel 2019 è stato anche rimasterizzato per la PS4, seppur anche questo solo in inglese. Se siete interessati recuperatelo, magari vi metto un link in descrizione anche per altre piattaforme, è davvero un must have se siete fan dei Ghostbusters. Perché vi sto parlando del videogioco che il video è incentrato su Ghostbusters dell'IDW? Perché anche questo, che se questo è Ghostbusters 3, qua sicuramente parliamo di Ghostbusters 4 o di Ghostbusters la serie successiva ai film, perché anche questo, ma l'oppone, è in continuity con le vicende del primo e del secondo film, a differenza che invece non è in continuity con la serie animata The Real Ghostbusters, seppure è piena di camei a The Real Ghostbusters e ai giocattoli, poi ci andiamo ad approfondire, è comunque in continuity con la storia principale. Perché dico questo? Perché si parla, la trama principale, è nelle prime pagine quindi non sto spoilerando nulla, la trama principale è una fantomatica terza venuta del viaggiatore. Si riferisce ovviamente all'omino di Marshmello, l'omino di Marshmello che è venuto la prima volta nel 1984 su scelta di Ray come distruttore. Perché quindi qua parlano di una terza venuta? Perché c'è già stata anche una seconda venuta, la seconda venuta è avvenuta nel videogioco, quindi è in continuity con il videogioco. Un altro fatto per cui sappiamo che è in continuity, perché vediamo anche cosa ne è stato della recluta The Rookie. The Rookie sappiamo che dopo che è stato addestrato dai Ghostbusters, ha aperto una filiale a Chicago. Lo vedremo nel corso di questo megatomo. Mi piace che è tradizione nei Ghostbusters ricalcare il successo del primo film citandone gli eventi. Infatti la trama inizia con il primo fantasma che catturano è ancora Slimer, così come è accaduto anche nel videogioco, e il primo Big Bad che affrontano è ancora l'omino di Marshmello, come è avvenuto anche nel videogioco. Quindi c'è questa ciclicità in Ghostbusters, perché squadra che vince non si cambia. E poi si sa, vogliamo vedere Ghostbusters 1 riprodotto su tutte le piattaforme. Ci hanno accontentato con il videogioco, ci stanno accontentando anche, ci hanno accontentato anche con Ghostbusters della EDW. In questo megatomo ovviamente c'è più di una storia. La storia principale appunto si conclude con la terza venuta del viaggiatore, dopodiché ci sono vari casi all'interno di New York, ma anche all'interno dell'America. E scopriamo anche che, anche perché si sa, i Ghostbusters sono gli unici disinfestatori del paranormale, esistenti di conseguenza devono occuparsi di tutti i fantasmi che ci sono nel mondo. Da cui poi nascerà anche la serie, sempre dalla EDW, Ghostbusters Inc. Qua ci stiamo riferendo solo agli Stati Uniti. Per viaggiare negli Stati Uniti, Ghostbusters si procurano anche un camper, un ectocamper. È fantastico vedere come si stiano attrezzando con nuove tecnologie. Parlando di nuove tecnologie, parlando di continuità con la storia principale e con il videogioco, ci mostrano dei nuovi aggeggi, dei nuovi aggeggi che non sono nuovi, noi li abbiamo già visti da qualche parte. C'è uno zaino protonico che utilizza Egon che si deve raffreddare quando si surriscalda, che è un chiaro riferimento allo zaino protonico che si utilizza nel videogioco, che la recluta utilizza nel videogioco di Ghostbusters del 2009. Un altro marchigegno che si aggiunge all'equipaggiamento dei Ghostbusters è anche la megatrappola. La megatrappola non è in realtà un'opera originale, l'abbiamo già vista nella serie animata Extreme Ghostbusters, di cui ho anche il giocattolino, vedete, perché era incluso con la figure di Kylie Griffin. Kylie Griffin è stato il primo Ghostbusters donna, esclusa Jeannine, ovviamente perché era principalmente la segretaria dei Ghostbusters. La prima Ghostbusters ufficiale donna è stata Kylie Griffin nella serie Extreme Ghostbusters e la megatrappola è esattamente riprodotta in questo modo. Nella serie a fumetti viene creata da Rey e serve a catturare fantasmi molto molto grossi, come l'omino di Marshmallow. Il personaggio di Kylie Griffin, tra l'altro, appare in questa serie a fumetti della EDW, appare come commessa dell'occultoteca di Rey Stenz. Ebbene sì, dopo Ghostbusters 2, dopo che i nostri Ghostbusters hanno ripreso gli affari in Ghostbusters 2, a quanto pare Rey Stenz non ha venduto la sua occultoteca, che è un negozio tuttora aperto, ed è però gestito non da Rey, perché appunto sta lavorando come Ghostbusters, ma è gestito da Kylie Griffin, che poi diventerà lei stessa una Ghostbusters, anche in questa saga a fumetti. Prima parlavo di come i Ghostbusters fossero gli unici disinfestatori paranormali presenti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Dovete anche sapere che da questo numero, da questa serie a fumetti, i Ghostbusters non trattano più direttamente con clienti privati, ma hanno anche finalmente un contratto comunale, proprio perché quando operano, rischiano di distruggere parecchie proprietà, parecchi beni pubblici, oltre a palazzine private. Proprio per questo il sindaco di New York ha deciso di creare un contratto apposta di disinfestazione con i Ghostbusters, quindi sono alle dipendenze del comune, poi possono anche lavorare come per i privati cittadini, chiaramente, ma hanno un contratto di licenza con la città di New York. E indovinate chi hanno chiamato per fare da liaison tra il sindaco, tra la città di New York e i Ghostbusters, niente po' di meno che Walter Peck, il grandissimo cattivone umano del primo film, che chiaramente dopo essere stato sepolto da tonnellate di ectoplasma bianco dell'omino di Marshmello, si è ricreduto sulla veridicità delle attività dei Ghostbusters, quindi ora non nega più che i loro siano show di false luci. Ciò nonostante non è cambiato la sua antipatia per Peter Winkman, che resta reciproca, ma proprio per questo l'hanno ritenuto la persona adatta per occuparsi con distacco di questi disinfestatori e di quello che devono fare per opera della città. Vediamo per esempio che l'orso della borsa di Wall Street viene posseduto da un fantasma e quindi si anima e inizia a distruggere cose, chiaramente in questo caso non c'è un cliente vero e proprio, perché tutti possono sbatterse nelle scatole e quindi in questo caso è la città che si deve occupare del fantasma chiamando, assumendo, pagando gli acchiappafantasmi perché vi ricordo che comunque gli acchiappafantasmi sono pagati per fare quello che fanno, il loro è un lavoro, non è uno studio di ricerca. Sempre parlando del fatto che i Ghostbusters appunto sono gli unici che operano in tutto il mondo e sono sotto contratto comunale per la città di New York, c'è anche da dire che qualcuno se n'è accorto di questa cosa, in particolare il personaggio di Ron Alexander che tra l'altro è basato sull'attore Chevy Chase che era tra gli attori illizza per il ruolo di Peter Winkman che poi ha preso Bill Murray. Questo Ron Alexander vorrebbe fare concorrenza ai Ghostbusters, non ha le capacità scientifiche che ha Egon, che ha avuto Egon, che hanno avuto Egon e Ray per creare gli zaini protonici, ma ha abbastanza capacità tecniche ora che loro li hanno inventati per poterli riprodurre. Quindi si mette in collaborazione di alcune sue dipendenti e crea i Ghost Smasher, che è la concorrenza dei Ghostbusters. Quindi tutto il secondo arco narrativo di Total Containment consiste anche nell'apertura di questa concorrenza, di questa attività concorrente, dei guai che questa attività concorrente provoca alla città di New York e di come possono risolverli. Il fatto che in una storia fantasy, in una storia fantascientifica sia così preponderante l'elemento terra-terra di avere un'attività che ti debba dare dei soldi, che ti debba dare un riscontro economico, che ci sia la concorrenza, che ci sia il comune che ti assume, riesce a dare quel senso di verosimiglianza che altrimenti si perderebbe e infatti in altre pellicole che non voglio nominare si è perso questo senso di verosimiglianza che ci tiene un po' tutti con i piedi per terra ed è anche questa, credo, la forza che Ghostbusters ha avuto nel suo franchise. E ora dai, adesso che vi ho dato un'infarinatura generale a tutto citazioni. Ovviamente una delle primissime citazioni visive che vediamo e che è anche stato forse il motivo che mi ha convinto a comprare questa serie a fumetti è la presenza dello spirito guida di Ray, del dottor Ray Stenz. Come sapete, Ray è interpretato da Dane Croyd, che è anche, tra l'altro, sceneggiatore di Ghostbusters insieme a Harold Ramis, ma è anche protagonista e sceneggiatore di The Blues Brothers. Quindi ha fatto coppia a livello sia cinematografico sia precedentemente al Saturday Night Live con John Belushi. E tant'è che si dice che il fantasma Slimer rappresenta un attimino lo scomparso amico di Dane Croyd, John Belushi. Ma qui abbiamo anche lo spirito guida di Ray Stenz che ha le fattezze niente po' di meno che di John Belushi più specificatamente all'aspetto di Joliet Jake Blues, ovvero John Belushi nella sua divisa da Blues Brothers. Quindi è John Belushi nel suo ruolo di Jake Blues, fratello di Elwood Blues, che è sempre Dane Croyd, che è sempre Ray Stenz. E infatti tant'è che questo spirito lo chiama fratello. è come se facesse parte di una realtà alternativa. Infatti Ray è sconcertato, non sa chi è questo spirito guida, ma lo sappiamo noi lettori. E questa citazione già da sola vale il costo di tutto l'omnibus. Quando Walter Peck si arrabbia molto con Janine Mellitz e con i Ghostbusters, Janine Mellitz gli fa presente che sono gli unici che fanno questa attività e che non li può rimpiazzare. Con cosa pensa di rimpiazzarci, dice Janine a Walter Peck. Con un gorilla parlante è un chiaro riferimento alla concorrenza, ai Ghostbusters della Filmation, che comprendevano anche Grunt. Durante una scena di possessione di fantasmi sul classico stile dei Ghostbusters, vediamo che un malcapitato abitante del palazzo che fu la centrale fantasmi, ovvero il palazzo dove abitava Dana Barrett, che a quanto pare è ancora la centrale fantasmi, questo povero malcapitato viene posseduto con un sacco di mani che escono dalle pareti, così come è successo a Dana Barrett con le mani che uscivano dalla poltrona. Vediamo anche però un Walter che si sta animando, esce una lingua, escono degli occhi, è un chiaro riferimento a un giocattolo della Kenner di quegli anni, della The Real Ghostbusters, di cui vi metto un'altra foto qua accanto in modo che li confrontiate. Questo tomo, questa serie della IDW, si vede proprio che è stata fatta da persone che amano il loro lavoro. C'è un detto che dice ama quello che fai e non lavorerai neanche un giorno per tutta la tua vita. Bene, queste persone, questi disegnatori, si vede proprio che amano quello che hanno fatto, perché potevano benissimo farne a meno di fare così tante citazioni, ma le hanno fatte perché le conoscono, le amano, e sanno che anche noi con queste citazioni abbiamo dato un valore aggiunto davvero enorme a questa opera. Prima vi ho detto che l'orso della borsa di Wall Street si anima e prende vita. Dovete sempre fare caso quando guardate questi fumetti, non oltre alla scena principale che si sta svolgendo, ma anche a tutte le persone che ci sono nello sfondo, perché ci sono sempre un sacco di chicche di riferimento ai cartoni animati. Quando l'orso si anima, c'è un bambino che ricorda molto Egon Spengler da giovane, l'Egon Spengler biondo dei cartoni animati. Quando viene introdotto per la prima volta Ron Alexander, vediamo nella sala da biliardo dove stanno giocando, nel pub dove stanno giocando biliardo, c'è un videogioco dei Ghostbusters. Questo videogioco è realmente esistito negli anni Ottanta grazie proprio al successo di questo film. In una scena i Ghostbusters bucano una gomma della Ectomobile proprio su uno dei ponti di New York. Vengono superati da un furgone nero che dice i Ghostbusters fanno schifo. Questo furgone nero è chiaramente il furgone dell'A-Team. Sempre nella scena dove l'orso di Wall Street si anima vediamo un sacco, un sacco di citazioni partendo da Leopold, il direttore d'orchestra che vediamo nella puntata La cavalcata delle valchire di The Real Ghostbusters che ha un suo manifesto in Times Square, suppongo. Vediamo sempre a Times Square sotto il manifesto di Leopold vediamo una pubblicità del succo con Slimer su di esso. È un succo che esisteva realmente che è servito per fare pubblicità al cartone animato Ghostbusters e che è quasi un cimeglio tra i fan. Vediamo anche sotto sempre un annuncio di Shanna che è un fantasma che era una rock star sempre in The Real Ghostbusters che poi si è scoperto che fosse una benshi. Vediamo anche che ha un manifesto tutto suo il padre di Peter Winkman il dottor Winkman che si vede chiaramente che sta vendendo dei frigoriferi probabilmente agli schimesi. C'è anche un cartello che dice Banagarak Banagarak in turco significa che si abbia pietà di lui una cosa del genere. Ovviamente vediamo riferimenti all'omino di marshmallow ovunque vediamo Stay Puft the Musical vediamo che l'orso è sopra a un teatro che si chiama Weaver Theater Weaver è il cognome di Sigurni Weaver che ha interpretato Dana Barrett in Ghostbusters 1 e 2 in una scena dove i Ghostbusters sfrecciano con l'ecto 1 a tutta birra fuori dalla caserma dei pompieri vediamo che tagliano la strada ad un'auto rossa guidata da un afroamericano che chiaramente gli grida contro qualcosa. Questo afroamericano sull'auto rossa molto probabilmente è Eddie Murphy o meglio Axel Foley interpretato da Eddie Murphy questo riferimento è dovuto al fatto che Eddie Murphy doveva fare la parte di Winston Zedmore però non ha potuto girare Ghostbusters perché in quegli anni stava girando Beverly Hills Cop in una scena i Ghostbusters chiedono aiuto a un pilota di elicotteri che ha sul cruscotto sulla plancia del suo elicottero un giocattolino di un fantasma di uno scheletro che guida un elicottero a elica è un riferimento alla pilot dei Ghostbusters dove appunto c'è un fantasma con queste sembianze che scorrazza per New York quando Ray collauda la mega trappola vediamo che entra in casa di un inquilino sempre della centrale Fantasmi quindi un inquilino un vicino di casa di Dana Barrett e di Louis Tully questo inquilino ha le chiare fattezze di John Candy John Candy doveva interpretare per primo Louis Tully al posto di Rick Moranis ma alla produzione non è piaciuto la strada che l'attore voleva dare alla caratterizzazione del personaggio infatti John Candy voleva che avesse un accento tedesco che avesse questo aspetto che vedete in questo disegno e che avesse anche due cani era un'idea molto strampalata tipica di John Candy però è stato molto carino che gli abbiano reso omaggio in questa tavola quindi qua vediamo il John Candy che avrebbe il Louis Tully come lo avrebbe interpretato John Candy nella seconda storia ambientata in un Luna Park fantastica dove Peter dà il meglio di sé il meglio degli studi che ha fatto di psicologia psicoanalizzando un fantasma vediamo in una scena iniziale che c'è un pagliaccio che sta facendo dei palloncini per i bambini questo pagliaccio ha l'aspetto spiccicato del hit di Tim Curry il fantasma che viene psicoanalizzato da Peter a sua volta legge nella mente di Peter e gli mostra una specie di ologramma di quella che è Dana Barrett la vediamo mentre suona il violoncello perché come sapete Dana Barrett era una violoncellista all'inizio di questa saga Janine Mellitz ha una storia d'amore con un certo Robert o Bob non ricordo si scopre che questo Robert ha le fattezze di Egon ma non Egon del film quindi non con i capelli neri ma dell'Egon biondo più precisamente dell'Egon biondo di Extreme Ghostbusters ovvero bionde con la coda come vi ho detto i Ghostbusters in giro per l'America hanno un cam per tutto loro e non sono graditi ovunque in tutti gli Stati Uniti quando vengono aizzati dalla folla che gli lancia pomodori che imbeisce contro di loro Peter ha la bella pensata di spruzzargli di rimando la melma umorale ovviamente la melma buona quella che hanno spruzzato a Janosch per farli diventare amorevoli e buoni e ho notato con piacere che è rosa a differenza di quella che c'è nel videogioco contenuta nello zaino protonico che invece è verde tra i vari mostri e possessioni demoniache possiamo vedere anche un Michael Jackson in versione thriller che prende vita a un certo punto i Ghostbusters si scontrano anche con l'FBI dove vediamo un agente che è un chiaro riferimento a Mulder di X-Files ed è fantastico il dialogo che hanno questo agente dell'FBI con Egon Spengler e di come Egon specifici che lui non crede nella vita dopo la morte solo perché di lavoro fa la chiappa fantasmi ma crede nella conservazione della materia quindi quello che lui acchiappa non è altro che un residuo diciamo elettromagnetico ectoplasmatico e quindi slega totalmente il discorso spirituale dalla loro attività si può notare come Peter Winkman quando resta a corto di tute chiare indossi la tuta scura quella che si vede in Ghostbusters 2 sempre parlando di tute scopriamo che la tuta che Ray e Winston usano nella caserma dei pompieri come tuta da meccanico per riparare l'auto è un riferimento alla tuta che indossano in The Real Ghostbusters quindi Ray ha una tuta sempre marroncina ma senza name tag ovviamente mentre Winston ha la classica tuta azzurrina bianca con i risvolti rossi come ha nel cartone sempre tra i nuovi progetti dei Ghostbusters c'è anche la ecto 2 ovvero la motoretta volante che si vede molto spesso nei cartoni animati nella scena iniziale che è un sogno di Ray vediamo sempre presente Shanna il fantasma Benshee di cui ho parlato prima tra l'audience del pubblico pubblico sempre nel sogno di Ray e accanto a Shanna c'è un altro fantasmino che era presente nella serie animata The Real Ghostbusters mi dispiace non mi ricordo di preciso la puntata non mi ricordo di preciso il nome di questo fantasma se ve lo ricordate voi scrivetemelo qua sotto sempre nelle prime pagine vediamo Winston parlare con un certo Alan scopriamo che questo Alan è nipote di Janosch Poa quel povero povero uomo che è stato posseduto da Vigo il Carpatico il nipote di Janosch Poa si scopre si scoprirà più avanti perché appunto vi ricordo che questo fumetto è un seguito del videogioco quindi sarà ambientato all'incirca nel 92 93 o giù di lì questo bambino in futuro nel 2011 di preciso diventerà un Ghostbusters e di preciso sarà uno dei personaggi giocabili del videogioco Ghostbusters del 2011 che non è questo è un videogioco che è per la piattaforma PlayStation Network bene ragazzi con questo diciamo che è tutto anche se sono sicuro che ho dimenticato un sacco di altri riferimenti anzi se anche voi l'avete letto questo fumetto fatemi sapere quello che mi sono perso perché sicuramente ci sono riferimenti che io non sono riuscito a cogliere perché chiaramente non si può cogliere tutto spero che vi siano piaciuti quelli che ho colto sicuramente farò anche un'altra recensione magari un attimino più approfondita sul secondo tomo sul secondo omnibus di questa saga fumetti che è Mass Hysteria io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo più tardi con il prossimo video arrivederci